Questa mattina ha visto il pericolo scampato, non poteva mancare la benedizione di Monsignor Michele Seccia. Qual è il messaggio che oggi vuole lanciare? Che la scuola dell'infanzia, visto che sta diventando per fortuna in Italia una tutela sociale, un diritto delle famiglie, un diritto dei bambini, deve essere valorizzato al meglio. Nel senso che è vero che tante famiglie hanno bisogno perché le donne lavorano, le mamme non sono più in casa, però è altrettanto vero che l'educazione non può essere semplicemente delegata. La scuola materna, la battuta che facevo, forse è un po' complicata, ma la scuola materna, la scuola dell'infanzia soprattutto, come oggi viene definita, non è il parcheggio dei bambini. È il luogo dove cominciano a socializzare, ma dove anche apprendono le prime nozioni che poi in casa devono trovare la loro organizzazione. E questo mi sembra un messaggio molto importante perché se formiamo l'uomo, formeremo anche il cittadino. Tante sono le opere pubbliche che un sindaco può inaugurare, può tagliare tanti nastri, ma questo ha un sapore particolare perché quello che poteva accadere circa un anno fa davvero non voglio neanche pensare perché sarebbe stata una tragedia. Quindi oggi siamo qui a riaprire questa scuola nei tempi che avevamo promesso ai genitori, grazie a un lavoro degli uffici, dell'assessore di Giovanni Giacomo, del dirigente Bernardi dell'impresa, dei docenti, della preside che hanno collaborato, dei genitori. È stato un anno sicuramente con qualche difficoltà, però un anno che abbiamo affrontato tutti quanti insieme con grande determinazione e oggi siamo qui a riaprire la scuola di Piano d'Ace. È davvero una grande soddisfazione. Inizia bene per me il secondo mandato con questa importante riapertura. Grazie a tutti.